Per creare un prospetto o una sezione si va in Crea, Architettura, Linea di sezione. Una sezione e un prospetto sono formalmente la stessa cosa, nel senso che una sezione sarà una linea di sezione che taglia l'edificio, una linea di sezione esterna all'edificio, per esempio parallela alle facciate, non sarà altro che un prospetto. Andiamo per esempio a fare il prospetto davanti, clicchiamo in un punto qui, per tirare una linea parallela andiamo a prendere uno snap, uno snap per esempio la parallela a questa linea, basta posizionarsi su un punto qualsiasi della linea, aspettare un attimo, viene fuori il simbolo del parallelo, significa che adesso la linea può essere parallela a quella, eccola qua. Clicchiamo, dopodiché potremo andare a specificare un altro punto perché le linee di sezione possono anche essere spezzate, in questo caso non ci interessa, facciamo Esc e andiamo a dare lo sviluppo di questa linea di sezione, cioè fin dove dovrà vedere la linea, ovviamente tutto l'edificio. Eccola qua, diamo un nome per esempio A e questa è la nostra linea, poi ovviamente questa può essere editata, cliccandoci due volte, si può inserire il tratteggio continuo su tutta la linea di sezione, le dimensioni, possiamo fare 5 e anche il simbolo magari lo facciamo pieno così si vede. Si dà un livello inferiore e un livello superiore della sezione, normalmente sono due quote che comprendono l'intero edificio e poi si può anche dare un layer, per esempio il layer costruzioni. Ok, ecco fatto. Adesso magari stendiamo più in basso queste, dopodiché magari prendiamo un altro prospetto, per esempio questo. Qui adesso ovviamente l'oggetto è perpendicolare agli assi, però nel caso non sia perpendicolare, per tirare una parallela si fa come prima, si punta in una zona qualsiasi di una linea, si aspetta che questi diventa parallela e dopo di che si tira la parallela. Eccola qua, in questo caso però sarà il prospetto B. E poi anche una sezione, per esempio quella che attraversa la porta. in qua e questa la chiamiamo C. Una volta fatte queste sezioni, è sempre bene riportarle in un quadro a sé, perché in questo modo si evita di doverle tutte le volte accendere o spegnere quando si visualizzano le piante. Quindi le filtriamo, sono in costruzioni, ctrl x, ctrl alt v, eccole qui, e chiamiamo il nostro quadro linee di sezione. Ecco fatto. Lanciamo adesso i prospetti e le sezioni. Allora, andiamo ad accendere tutti i quadri che vogliamo siano rappresentati, i vanni non importa perché tanto contengono oggetti bidimensionali, e le linee di sezione. Andiamo sempre a controllare, premendo due volte col tasto destro del mouse in un punto vuoto, che tutti i layer che vogliamo essere rappresentati siano accesi. Qui vediamo che moda natura e base li avevamo tenuti spenti prima, per facilitare l'esecuzione di alcune cose. Ora li riaccendiamo. Dopodiché lanciamo. Per lanciare si utilizza questo pulsante. Questo pulsante rappresenta la sezione che noi abbiamo fatto. Per esempio iniziamo da là. Questa è la sezione A. Ovviamente la rappresentazione è a fil di ferro, cioè si vedono tutte le linee. Per cancellare le linee che non vogliamo vedere, si può utilizzare questo pulsante. Altrimenti noi vogliamo generare immediatamente il nostro prospetto. Si va col calcolo hidden. Questo pulsante qua. Calcolo hidden. Praticamente non fa altro che eliminare le linee che non vogliamo vedere e crea un disegno bidimensionale sul piano, che rappresenta per esempio il nostro prospetto. Si possono inserire le campiture, si può rappresentare solo gli elementi attivi oppure tutti. Si possono eliminare le giunzioni fra le superfici, per esempio. Diverse cose. Poi si può dare anche un layer e delle proprietà alle linee che poi vengono generate. Per esempio noi vogliamo che tutti gli spigoli generati, quindi l'intero disegno, venga nel layer schemi. altrimenti si può cambiare. Poi si possono anche dare delle rappresentazioni più particolareggiate. Per esempio nel caso di sezione, noi diciamo che le sezioni le vogliamo più grosse e nel layer sezione, quindi vengono rosse, facilmente individuabili. In questo caso è solo un prospetto, quindi non verrà sezionato nulla. Facciamo ok. Ed ecco qua il nostro prospetto. Ovviamente nel prospetto c'è roba in più, per esempio il solare del piano terra, si possono eventualmente aggiungere quote, fare diverse cose, dopodiché questo disegno si salva all'interno di un quadro. Chiede infatti se salvare il risultato di questo calcolo hidden. Andiamo in villetta, lo vogliamo salvare nel quadro 17, a cui diamo per esempio il nome prospetto A. Eccolo qui. Analogamente facciamo per il B. Sempre calcolo hidden. Ok, eccolo qui. Togliamo ciò che non vogliamo vedere. Tutte le operazioni di modifica possono essere fatte anche dopo, perché tanto questo è un disegno bidimensionale, è un CAD per esempio, e quindi in qualsiasi momento si può modificare. Salviamo, in 18, ed è questo il prospetto B. Facciamo la stessa cosa per la sezione C. Basta indicare qui il nome che abbiamo dato, e lui se la calcolo automaticamente. Qui ci verrà utile aver selezionato il contorno più spesso, perché questo essendo una sezione, viene sezionato in questi punti. Possiamo togliere per esempio questo. E poi lo salviamo. Ecco fatto. Torniamo ai nostri piante. E attiviamo il prospetto A. I nostri prospetti si possono poi arricchire di diverse cose, per esempio, possiamo inserire dei retini. Questo è, come ho detto prima, un disegno bidimensionale, e quindi si può manipolare in ogni modo. Per esempio possiamo inserire il retino del tetto, possiamo delle linee orizzontali, per esempio. Le mettiamo qui. Ecco. E altre cose. Analogamente per le sezioni, possiamo, per esempio, inserire le quote. Andiamo qui. Quote e altre metriche. Sono queste. Si possono sistemare le varie opzioni, per esempio, in quote. Le mettiamo. Una cifra va bene. La rotondiamo a 10. Ok. Clicchiamo in questo punto. La quota è 0. Quindi va bene. Riclicchiamo. Dopodiché qui sarà 0. Questo sarà 3. E così via. Possiamo inserire tutte le quote che vogliamo.